La preghiera è un dono di Dio, però questo dono può essere aiutato da alcuni accorgimenti nostri, perché l'opera di Dio non contraddice la nostra opera, ma camminano insieme e si vogliono sostenere insieme. In questa puntata vorrei parlarvi di cinque accorgimenti che possiamo prendere in considerazione per aiutare la nostra preghiera. Il primo di questi accorgimenti è la preparazione della preghiera. La grande tradizione spirituale cristiana insegna che ci sono due tipi di preparazioni, la preparazione remota e la preparazione prossima. In che cosa consistono? La prima, la preparazione lontana, consiste innanzitutto in una vita conforme a questa vita di preghiera che vogliamo vivere. In un certo senso non bisogna intendere la preghiera come un momento distaccato dall'esistenza, ma come un momento integrato nella mia esistenza. Però non è soltanto il vissuto, che è una cosa concretissima, ma ci sono alcuni piccoli accorgimenti che i maestri spirituali insegnano per aiutare la propria preghiera. Uno di questi accorgimenti, ad esempio, io l'ho imparato da Sant'Ignazio di Loyola, ma lo insegnano diversi maestri, e preparare la propria preghiera anzitempo, ad esempio preparando il passo del Vangelo, mettendo dei punti, scandendo questo tempo di preghiera in anticipo affinché quando uno va a pregare, a parte che il proprio intelletto, il proprio inconscio inizia già a lavorare il tema della preghiera, ma anche sa cosa sta andando a fare, cioè non va così a casaccio a pregare. La preparazione prossima, invece, è proprio quando sto andando a pregare, dire a me stesso quello che sto per fare, cioè rendersi conto, rendermi conto di questa grazia nella quale sto per entrare. Alcuni santi consigliano, ad esempio, di guardare il posto dove ti siederai e di pensare, cioè in quel posto io sarò raccolto davanti al mio Signore, davanti allo Sposo, e quindi prendere coscienza di quello che stiamo facendo. Infatti tante volte facciamo le cose senza accorgercene, cioè andiamo a messa, usciamo dalla messa, e poi diciamo, ma dove sono stato tutto questo tempo? Ecco, parlarsi in anticipo, dire alla propria anima che stai per entrare alla presenza di Dio, sembra un gesto artificiale, invece è un gesto molto fruttuoso, perché risveglia il nostro senso e i nostri sensi verso quello che stiamo per fare. Il secondo di questi accorgimenti è usare il corpo, anzi far pregare il corpo. Mi ricordo già dai primi passi del cammino di preghiera in Italia, mi aveva molto colpito un insegnamento di padre Andrea Gasparino. Padre Gasparino diceva, il tuo corpo deve pregare anche lui. Se non prega, ostacola la tua preghiera. Cosa significa il tuo corpo deve pregare? Beh, innanzitutto noi siamo fatti di anima, corpo e spirito, e sono un sinolo, sono una unicità. Non è che il mio corpo è un prodotto estraneo a me, così anche la mia anima. Cioè, se la tua anima è triste, influenzerà la tua preghiera. Il che non significa che non puoi pregare, ma puoi pregare a partire da questo stato d'animo. Lo stesso vale per il corpo. Se il corpo non lo metto in una disposizione orante, sarà una distrazione, un ostacolo, una difficoltà che si aggiunge alla mia preghiera. Cioè, posso anche dire una preghiera spaparanzato, ma in realtà quando voglio pregare, voglio essere raccolto, voglio pregare in tutto il mio essere, il mio corpo deve partecipare alla mia preghiera. Questo non significa necessariamente adottare un unico modo di preghiera. La Bibbia ci presenta diversi modi e modelli di preghiera. Puoi pregare seduto, ad esempio ti invito a pensare a una fotografia di Santa Teresina, in cui è seduta, ma da questa forma seduta traspare preghiera. La becca Farel, per dare un altro esempio, invita in una sua lettera a meditare un affresco, o un quadro di San Giuseppe Labr, proprio della sua forma in piedi è raccolto e esprime preghiera. La preghiera quindi non è legata a una forma unica, ognuno deve trovare la sua forma corporea per pregare. Ad esempio, io mi trovo molto bene, quando sto a casa, a pregare seduto sull'inginocchiatoio, cioè in una forma quasi embrionale, e questa forma mi aiuta a stare in preghiera più che della forma in ginocchio, perché la forma in ginocchio sto scomodo e quindi questa scomodità non aiuta la mia preghiera. Per dirla brevemente, la forma fisica è fondamentale, è importantissima nella preghiera. In questa forma ognuno deve trovare la propria, deve ascoltare anche il proprio corpo e vedere come il corpo risponderà alla preghiera. Quindi non deve essere scomoda, perché altrimenti questo disagio fisico sarà una distrazione, ma non dovrebbe neanche essere troppo comoda, perché più che cadere nelle braccia del Padre Eterno, cadremmo nelle braccia di Morfeo. Il terzo contorno, il terzo elemento di cui vi vorrei parlare, lo chiamerei Tempio non per dire costruire un santuario, costruire una basilica per poter pregare, ma creare quell'angolo, quello spazio che richiama la preghiera. Proprio come il frigo ti richiama a smangiucchiare, quest'angolo dovrebbe sollecitare anche i tuoi sensi alla preghiera. Io personalmente, quando non avevo molto spazio, cioè cercavo di creare questi spazi simbolici che lo fanno. Anche qui questa casa non è una casa molto grande, è sufficiente per noi e ringraziamo il Signore, ma in questo studio in cui faccio gran parte del mio lavoro, ho voluto ritagliare questo piccolo spazio. E questo spazio per me è uno spazio dedicato alla preghiera. Quando sono qua, sono qua a pregare. E cerco anche di trasmetterlo ai miei bambini per capire che questo è uno spazio dedicato alla preghiera. Oltre al corpo e allo spazio c'è un quarto elemento molto importante, è il tempo. Ognuno deve trovare il tempo suo per pregare. Anche qui, ognuno a partire dalla propria vita, dal proprio lavoro, dai propri impegni familiari, personali, dalla propria salute, dal proprio temperamento anche deve trovare un tempo. Cioè, se non sei una persona mattiniera, inutile che ti dica che il miglior tempo per me per pregare è la mattina. Per te non sarà la mattina, sarà magari dopo mezzogiorno o sarà nel pomeriggio. Mi ricordo e mi aveva molto edificato l'esempio di una giovane suora che conobbi ormai diversi anni fa, e mi diceva, siccome lei aveva tanti impegni nella comunità, la comunità era abbastanza grande rispetto alla sua età, mi diceva, cioè, il mattino mi devo occupare delle suore anziane, la sera, cucinare, eccetera. Quindi per lei il tempo della preghiera era il tempo dopo il pranzo. Dopo il pranzo le altre suore andavano a dormire, a riposare, per lei era il tempo per stare con Gesù. Ecco, ognuno deve trovare il suo tempo. Naturalmente su questa questione del tempo c'è una grande, 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 grandissima obiezione, io l'ho chiamata la grande obiezione, di questo infatti vorrei parlare nel prossimo video, ma per chiudere questo video c'è ancora un quinto elemento che vi avevo promesso, ed è quello che chiamerei il santuario ambulante. E vorrei introdurre questa questione del santuario ambulante con una barzelletta, è una barzelletta da prete, ma siccome frequento molto l'ambiente dei preti la conosco, e quindi si racconta che un dominicano e un gesuita, amici, entrambi amavano fumare, solo che uno aveva il permesso di fumare, l'altro no. Naturalmente quello che aveva il permesso è il gesuita. E il dominicano gli dice, ma come hai fatto per ottenere il permesso? Dice, molto semplici, ma piuttosto dimmi tu, come mai non sei riuscito a ottenere il permesso? E dice, io sono andato dal padre superiore, gli ho detto, padre superiore, per caso, siccome le nostre preghiere sono lunghe, posso fumare mentre prego? Il padre superiore dice, ma assolutamente no. Cioè, il tempo della preghiera deve essere il tempo della preghiera, tu devi dedicarti a pregare. E il gesuita dice, sei proprio un caso disperato. Dice, ma parlami tu. Io sono andato dal padre superiore, gli ho detto, santo padre, posso, mentre fumo, pregare? E dice, figlio mio, ogni tempo è buono per la preghiera. Ecco, usciti dalla barzelletta, la mia idea è proprio questa, non è legata per nulla al fumo, ma è legata a come non far andare in fumo il tempo delle nostre giornate, magari scorrendo gli schermi dei telefonini o perdendo tempo in cose inutili, ma valorizzare il tempo. Pensate quanti tempi li possiamo colmare di preghiera. Il tempo dell'attesa del bus, il tempo mentre ti lavi i denti, ti vesti la mattina, il tempo della doccia, il tempo del traffico in auto, tanti tempi che potrebbero essere morti e che la nostra addizione al telefonino solitamente ha predominato, cioè abbiamo la macchia perdita di tempo davanti al telefonino, che prende molti di questi tempi, non dico tutti i tempi, magari se qualcuno lo volesse fare benvenga, io vi confesso non prego in tutti questi tempi morti, ma sono tempi che possiamo colmare di preghiera, tempi in cui possiamo appunto pregare in briciole. Tutto questo metodo che sto cercando di diffondere è fondato su questo aspetto, di imparare le forme della preghiera e di viverle a piccole dosi o a grandi dosi nei momenti sparsi della giornata, perché la nostra vita è fatta non di giornate e di ore e di anni, ma è fatta di istanti. E noi se riusciamo a valorizzare questi istanti siamo già non solo nell'arte della preghiera, ma anche nell'arte di vivere. Ecco, ti invito allora a fare un esame di coscienza, intanto ad applicare un po' questo metodo di preparare la tua preghiera, di far pregare il tuo corpo, di creare un tuo piccolo spazio di preghiera, ma soprattutto anche di vedere il tuo tempo. Bada al tuo tempo, perché il tuo tempo vale Dio in quanto è un tempo in cui puoi incontrare Dio stesso.